Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questo video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella, ti darò due motivi alla fine del video per farlo. Mi ha scritto l'amico Renato che dice, mi piace di più, si riferisce alla KTM 390 Duke, mi piace di più la SVM OQ400, motore bicilindrico, componentistica di qualità e prezzo nettamente inferiore. Grazie Marcello, ciao. Quindi vediamo senz'altro questa interessante proposta di SVM che è denominata SVM OQ400 del 2023. Si tratta però di una nuova proposta che assomiglia molto alla KTM 390 Duke, ma ha un prezzo molto competitivo di 3.990 euro rispetto alle 6.550 euro della KTM. Avendo caratteristiche molto simili alla KTM, si presenta come una Naked che riesce a unire due caratteristiche importanti in una moto, che sono da una parte sicuramente una potenza adeguata, che è simile, dopo vediamo i dati tecnici, ma unita a un peso, anche questo molto simile, molto basso, che le consente di potersi muovere in modo agevole, sia in città, ma anche nelle curve più impegnative. Quindi sicuramente andiamo a vedere la moto in questa bella immagine, notare appunto la sua estrema somiglianza con la moto di KTM. Partiamo dal motore che rispetto a KTM, che è un monocilindro in questo caso, è un bicilindro di 4 a 4 tempi, il raffreddamento come sempre a liquido, 4 vavole per cilindro e la distribuzione bi albero rispetto al mono albero di KTM a camme in testa. La cilindrata è esattamente di 378 cm3, la potenza massima di 44,9, qualcuno dichiara 45 cavalli rispetto ai 44 di KTM. Il telaio è in tubolare, in acciaio, lo vediamo bene in questa immagine, sostanzialmente analogo a quella della KTM, quindi veramente le due moto si assomigliano molto. La sella alta 790 mm da terra, un po' più bassa rispetto a KTM, la sospensione posteriore è formata poi da un mono ammortizzatore della Kayaba denominato Soft Dump. Il freno ulteriore della Brembo, si vede qui nell'immagine, il freno disco singolo anteriore da 300 mm, la pinza è ad attacco radiale, mentre al posteriore abbiamo il singolo da 220 mm, sempre a disco naturalmente, le ruote sono da 17 pollici, il peso secco è di 154 kg, 150 è quello di KTM, quindi una moto che ha tutte le caratteristiche ma appunto un prezzo nettamente più basso. Se ti è piaciuto metti un like se non ti è piaciuto, dislike, iscriviti al canale e attiva la campanella, primo perché è gratis, secondo faccio un video al giorno in modo che tu devrai tenerti sempre a giornata al giornato sui nuovi contenuti, qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona serata.